Siamo alla 13esima Cattedra Rosmini, qui al Centro Culturale di Isola Caporizzuto. Quest'anno il titolo è L'arte dell'accompagnamento nell'universo delle relazioni, famiglia, sessualità, omosessualità, convivenze, unioni civili. L'intento è quello di sottolineare, come ha fatto Papa Francesco, l'importanza dell'accompagnamento delle situazioni difficili. Papa Francesco ci tiene a dire che non solo i sacerdoti ma anche e soprattutto i laici sono impegnati nell'accompagnare le persone verso il bene e verso la felicità, che poi sarebbe l'obiettivo della santità. L'accompagnamento è un'arte, non è una scienza e quindi è un impegno pratico che è frutto di esperienza, è frutto di studio, è frutto anche di preghiera, ma è importante l'accompagnamento perché consente alle persone che sono in situazioni realmente difficili e a volte insommortabili, quelle di raggiungere comunque uno stato di benessere, di felicità e di realizzazione personale. Facciamo l'esempio classico che sono i divorziati e i risposati che non possono accedere alla comunione. Bene, il compito del cristiano, del sacerdote, del parroco, del pastore è quello di portarli all'incontro con Cristo anche se non attraverso l'eucarestia, almeno l'eucarestia sacramentale. Questo va approfondito perché non è semplice, non è banale e lo facciamo con Don Gianni Picenardi che ormai è un abituato ai nostri incontri e fa parte dell'equipe direttiva della Cattedra Rosmini che ci parlerà in particolare dell'accompagnamento in Rosmini. Lo faremo anche con il professore Zupi e con il professor Tadini, ma in particolare domenica lo faremo anche con delle testimonianze di famiglie che in situazioni particolari hanno raggiunto la loro serenità, la loro felicità con l'aiuto e con l'ausilio dell'accompagnamento. Bene, siamo con Don Gianni Picenardi, rosminiano, ha tenuto la prima relazione dal titolo l'arte dell'accompagnamento in Rosmini. Due domande, intanto cosa intende Rosmini per accompagnamento? Sì, direi che bisogna prima di tutto distinguere anche con la prima parola, che diventa chiave per Rosmini, arte. L'arte non è la scienza, ma è il modo con cui si vive, si impara a vivere ciò che la scienza ti ha insegnato. Questa è l'arte, quindi è una realtà pratica. Accompagnamento vuol dire l'essere vicino all'altro per aiutarlo ad accorgersi le storture che probabilmente capitano nella vita di ogni giorno. Questo è un accompagnamento. Poi alla dimensione fondamentale è così detto accompagnamento spirituale. Non è l'accompagnatore che determina ciò che fa l'accompagnato. L'accompagnatore fa quel discernimento necessario per aiutare l'accompagnato a trovare la sua via. Se poi arriviamo a un discorso profondamente religioso, accompagnamento, oggi è il termine che una volta era padre spirituale, direttore spirituale. L'accompagnamento spirituale, allora, non è qualcosa che accompagna l'anima dell'altro, ma è che si accompagna, secondo quanto lo Spirito Santo indica all'altro, a trovare il cammino giusto. Nel discorso abbiamo approfondito anche la visione della famiglia, secondo Rosmini, e mi ha colpito quando poi ha parlato del rapporto sessuale tra uomo e donna, nella visione di Rosmini. L'importanza è la visione che lui ha dei figli. Sì, allora intanto definisce il rapporto, l'accoppiamento, anche usa termini, l'accompagnamento sessuale umano come non un atto semplicemente del corpo, ma un atto fondamentalmente dell'anima dell'uomo e con l'anima dell'uomo di tutto l'uomo. Non è possibile scindere l'uomo e non è possibile che non sia implicato tutto l'uomo nel rapporto. Questo è il primo aspetto in ciò che è il rapporto sessuale. Poi quando si affronta il discorso del bene dei coniugi, che è uno di questi sviluppi, Rosmini stabilisce che c'è un solo bene, uno solo è il fine, il bene dei coniugi. I figli diventano, direi proprio, la realizzazione di questo bene in maniera piena, in maniera che possa addirittura superare l'esistenza dei due coniugi, perché diventano l'espressione vivente dell'amore. Però sono figli, sono persone e come persone non possono essere trattati come mezzi, perché le persone sono il fine della natura, dell'uomo e della natura umana e della legge dell'uomo, nella legge anche cristiana e nella legge divina. Di conseguenza i figli sono l'effetto di questo fine e rimangono un fine, proprio perché sono l'effetto, perché sono persone. Quindi potremmo definirli l'effetto fine del bene amore dei coniugi. Bene, ringraziamo Don Gianni, noi ci apprestiamo ai lavori di gruppo e ci aggiorniamo a domani.